Allora grazie, grazie immediatamente, questo è l'incontro, grazie a tutti e a tutti, è l'incontro consueto del lunedì di questa fungolare associazione che ogni lunedì si riunisce per discutere di pensiero critico, di costituzione e farlo riunendo tutta la comunità in modo che tutti possano partecipare e decidere. A qualcuno questa formula non piace, a noi sì e quindi andremo avanti con la formula della discussione collettiva che non significa assenza di direzione, significa però poter crescere ascoltando delle voci libere e autorevoli ogni lunedì. Ricordo a tutti quelli che sono collegati che poi ci sarà la registrazione perché questo incontro andrà sui nostri canali YouTube e sul canale Fanpage e in parte sarà riportato ovviamente su Twitter grazie ad Antonella e su Instagram e lì c'è la moltiplicazione degli ascolti. Grazie a tutti, ma invito anche tutti i nostri presidi a rilanciare, a rilanciare sempre questi appuntamenti come a rilanciare le principali notizie che appaiono sul sito. Guardate, è già collegata con noi Stefania Maurizzi, fatemi dire una cosa che poi spero sarà riportata sul sito, non posso fare finta. Mi associa a Elisa Marincola, veramente grazie a Stefania Maurizzi che ci è sempre stata e sempre ci ha dato una mano a sviluppare il pensiero critico. Oggi è il 7 ottobre, vorrei che lo riportassi anche il sito. Noi siamo un'associazione che sta dalla parte delle vittime, sempre, comunque e dovunque. Noi vogliamo che tutti gli ostaggi possano tornare a casa, liberati dalle prigioni di Hamas, così come vogliamo che l'esercito esraeliano esca dal Libano e dalla Palestina. Fatemi anche ricordare che questo è il conflitto dove è stato massacrato il più alto numero di giornalisti. Qui davvero speriamo che un giorno ci sia Assange medesimo, altri Assange a rivelarci. Tutto quello che sta accadendo in queste ore nei conflitti. Fatemi ricordare che 18 anni fa veniva assassinata Anna Moritoska e i mandanti sono rimasti nascosti. La natura di Putin era visibile 18 anni fa, ma ieri a Pontida sul parco della Lega campeggiava nel mezzo alla piazza il grande bandierone russo. Perché i filoputiniani italiani non sono stati poveri blogger o cronisti che hanno scritto, ma i veri filoputiniani italiani sono stati sempre dentro il governo. Da Berlusconi a Salvini, solo che si è fatto finta di non vedere. Mi ricordo che fu eletto. Un presidente della RAI filoputiniano dichiarato FOA e attualmente l'amministratore delegato è un signore che ha anche twittato contro Mattarella. E' a favore di Putin, ma vedo che tutto questo non viene più ricordato. Fatemi anche dire che la Corte Costituzionale sta per essere aggredita definitivamente e conchiuso un ciclo. Non credo Stefano che siano temici i quali noi possiamo distrarci in queste ore, perché sta accadendo esattamente quello che purtroppo tutti assieme avevamo previsto. Quindi bisogna dare voce ad un grande schieramento di chi ha nel cuore la Costituzione antifascista e il pensiero critico. Vi ricordo che mentre fermavano i manifestanti, Stefano era in piazza anche l'altro giorno, mentre fermavano i manifestanti a Ferrara non fermavano i fascisti che inauguravano la sede di Forza Nuova e veniva fermata un antifascista che distribuiva i volantini dell'AMPI. Piccolo episodio che simboleggia la situazione attuale. Noi abbiamo due ospiti graditi, graditissimi, ecco perché sono stato molto rapido per ringraziare tutti e tutti perché non voglio levarvi la parola, già ho parlato troppo, anche in cinque minuti. E abbiamo Stefania Maurizzi, poi verrà Nico Piro. Due ospiti graditi, graditissimi perché sono sempre stati a difesa del pensiero critico. Anzi, penso a Stefania, ci hanno tirato per la giacca, ci hanno spiegato cosa staccadeva nel caso Assange, ci hanno spiegato perché c'era una repressione, perché si doveva cancellare la libertà di informazione, perché era un problema che riguardava tutte e tutti. E purtroppo aveva ragione Stefania. Molti hanno aggredito, minacciato, non sto a ripetere tutto, non ha mai mollato, ha continuato a combattere. Nel suo piccolo articolo 21, grazie soprattutto a Vincenzo Vita e a tanti gruppi, vedo collegata a Marianella Diaz, hanno tenuto accesa questa fiammella, ma c'è una novità che io ritengo importante, novità che fa capire perché battersi, perché non arrendersi, perché essere testardi, poi alla fine può portare a un sia pur riconoscimento tardivo. Vorrei che Stefania, che abbraccio al nome di tutti e ringrazio davvero, ci dicesse cosa è accaduto a Strasburgo, perché mi pare importantissimo quello che è accaduto. E poi ovviamente c'è Vincenzo e altre voci che vorrei che si facessero sentire. Prego Stefania. Buongiorno Beppe, buongiorno a tutti e grazie per questo invito e sono io a ringraziarvi per quello che avete fatto come articolo 21, per questo caso, per questa battaglia, che è una battaglia di tutti. È una battaglia di tutti perché è passato purtroppo per la prima volta nella storia e noi ci dobbiamo rendere conto di cosa è cambiato, di un cambiamento drammatico. È passato per la prima volta nella storia la teoria del governo americano che se tu rivedi documenti segreti, questi documenti segreti sono nel pubblico interesse, documenti segreti del governo americano, del Pentagono, della CIA, del Dipartimento di Stato, degli Stati Uniti, e questi documenti sono assolutamente nel pubblico interesse, rivelano crimini di guerra, rivelano torture, rivelano sparizioni, uccisioni stragiudiziali con i droni, beh tu commetti un crimine gravissimo che ti può portare alla prigione a vita o addirittura alla pena di morte, dipende che tipo di incriminazione con quale accusi viene incriminato e questa legge del 1917 che è stata pensata, che è stata creata per bloccare, per distruggere, colpire il dissenso contro la guerra, contro l'ingresso degli Stati Uniti nel primo conflitto mondiale, questa legge viene applicata ormai dagli Stati Uniti su tutto il globo, cioè non importa se sei un cittadino australiano, se sei un cittadino americano, se sei un cittadino armeno francese, tu sei soggetto a questa legge del 1917, Giuliano Assange è stato incriminato con questa legge del 1917 degli Stati Uniti pur essendo un cittadino australiano, quindi gli Stati Uniti ormai hanno fatto passare questa teoria, per fortuna è solo una teoria, cioè non è stata vagliata da una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, quindi non crea dal punto di vista giuridico un precedente, ma sicuramente crea uno stato di intimidazione di tutta la stampa, perché il prossimo che avrà in mano documenti sulla base americana di Camp Darby, sulla base americana di Aviano, sulla base americana di Rammstein in Germania, dirà, beh, se io li pubblico poi, hai visto che è successo a lui? Hai visto che cosa che Calvario ha dovuto passare per 14 anni, prima chiudersi dentro un'ambasciata, ha bussato a tutte le porte, ha provato a cercare aiuto dalla giustizia internazionale, delle Nazioni Unite e l'hanno aiutato le Nazioni Unite, l'ha aiutato il Working Group delle Nazioni Unite, il relatore speciale sulla tortura, ma nessuno è riuscito a ridargli la libertà fino a quando? Fino a quando? Fino a quando non ha patteggiato, cioè gli hanno chiesto, l'hanno messo in condizioni di fatto, l'hanno costretto direi, a ammettere una colpa. La colpa qual è? Che cosa ha patteggiato? Come ha detto Julian Assange in questo incontro al Consiglio d'Europa, ha patteggiato il reato di giornalismo, ha ammesso di aver ricevuto e pubblicato documenti segreti del governo americano che hanno permesso di rivelare appunto le atrocità degli Stati Uniti e non solo, anche quelle dei talibani per esempio in Afghanistan o di Al-Qaeda in Iraq. Lui questo ha patteggiato. Allora, l'incontro che abbiamo appena avuto al Consiglio d'Europa è importantissimo perché noi abbiamo visto le istituzioni europee latitare assolutamente, a eccezione di quella nomina per il premio Sakharov che poi non gli è stato attribuito, però perlomeno era nella rosa dei candidati, era arrivato finalista. Però le istituzioni europee con tutta la loro retorica sulla libertà di stampa nel caso Julian Assange sono state colpevolmente silenziosi. Invece il Consiglio d'Europa ha voluto invitarlo, ha dato incarico al suo relatore per i prigionieri politici, ehm Toruildur Sunna, islandesi, di fare un rapporto sulla situazione del caso Julian Assange, la relatrice speciale per i prigionieri politici, non quindi una, la prima arrivata al Consiglio d'Europa, ha stabilito che negli anni in cui si trovava in prigione a Belmarsh, la prigione più dura del Regno Unito, Assange era un prigioniero politico. e ha ricostruito la sequela di persecuzioni, di ingiustizie che ha subito Julian Assange. Dopo aver presentato questo report, il relatore, la relatrice speciale per i prigionieri politici, ha chiesto un voto all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha votato questa risoluzione basata sul report della relatrice, dandole ragione, cioè riconoscendo i punti che erano la sequela di persecuzione, di distruzione della persona, distruzione del suo lavoro, distruzione della sua libertà, che le autorità inglesi e americane hanno provato a negare per oltre dieci anni. Quindi le autorità inglesi e americane sono state sconfitte su tutta la linea da questa risoluzione. Tanto grazie Stefania. Alzi, fatemi ricordare, chiedo scusa, io a volte non mi prendo gli appunti. Fatemi abbrazzare Fabiana, la nostra voce della Puglia, Fabiana Pacella, perché ha ricevuto questo riconoscimento per le sue battaglie per la legalità a Cavalieri della Repubblica. Una volta ogni tanto accade qualcosa di positivo per i suoi articoli, anche contro le infiltrazioni nelle amministrazioni comunali. È una bella soddisfazione per lei. Prima di tornare voglio fare un'altra domanda a Stefania. Fatemi ringraziare anche Roberto Natale, ne consiglierai a quale da nuova parola poi, che aveva collegato, non me ne ero accorto io. Vincenzo Vita, che tanto ha seguito questa campagna per Assange a nome di tutte e di tutti noi. Lo vedo collegato, ma so che ha un telefonino in una posizione precaria. Volevo chiedere a Vincenzo, ma perché questa risoluzione è così importante? Grazie a te Fabiana, grazie a te, poi vorrei sentirti anche. Perché Vincenzo è così importante anche per gli altri giornalisti questa risoluzione? Volevo dire a Stefania intanto grazie per quello che ha fatto, che farà sempre. Senza Stefania Maurizzi, lo dico senza retorica, tutta la vicenda Assange non sarebbe diventata la vicenda Assange. Sarebbe rimasta una grande questione di autoritarismo, di repressione, ma assunto anche molto grazie a quel libro Il potere segreto, tradotto in varie lingue. Stefania, non ti faccio i complimenti per caso, è diventato invece un punto emblematico. Cioè la vicenda Assange è il giornalismo. L'ha detto bene Assange. C'è voluto attaccare il giornalismo d'inchiesta. Perché è importante Strasburgo? Beh, Stefania ha scritto dei bei pezzi. Perché se ci ricordiamo, Giulietti e articolo 21 sono stati davvero fondamentali in questa iniziativa, accanto alle altre associazioni, ai comitati, saluto anch'io Marianella Diaz. Fino a qualche mese fa, se vi ricordate, Assange era il nemico pubblico numero uno. Era dipinto come un signore stravagante, al meglio, quando andava bene, oppure una figura pericolosa per l'ordine mondiale. Una sorta di costruzione al tavolino del nemico attraverso una legge del 17, di cui per fortuna si è cominciato a chiedere a Strasburgo l'abolizione, la legge sull'espionagio acta. Con l'audizione a Strasburgo, so Stefania sia umilludo per l'ottimismo, per la felicità di vedere quest'uomo finalmente libero, sentirlo parlare, anche con brillantezza, la vicenda di Strasburgo ha rovesciato l'ordine degli addendi, cioè l'accusato è diventato accusatore. E ha posto il problema recepito, mi pare, nella risoluzione, che la sua non è stata una detenzione per qualche reato di spionaggio, ma è stata una detenzione politica, tutta politica, perché c'è stata una scelta da parte dei grandi gruppi di potere del mondo di considerare chi mette il naso nelle vicende delle guerre, nei cablo segreti delle diplomazie, considerarlo un reato, mentre invece è, in base anche alla Convenzione dei diritti dell'uomo, invece è il dovere del giornalismo. Cioè, quindi, detta male, ma dovremmo cominciare una campagna intanto per la grazia, già è stata chiesta dagli avvocati, perché Biden sta per uscire di scena, potrebbe dare la grazia, come fanno gli Stati Uniti, danno la grazia a moltissime persone, come no, tanto la grazia per liberarlo da qualsiasi altro impedimento, tra cui andare, per esempio, negli Stati Uniti. Ma poi dovremmo, forse, fare una campagna, mi corregga Stefania, correggetemi tutti, perché venga assegnato il premio Pulitzer, perché quello è giornalismo, giornalismo, senza Wikileaks, senza Assange. Oggi, per esempio, noi sappiamo assai poco di quello che succede nelle vicende di Gaza, quello che è successo in Ucraina, cioè sappiamo poco, sappiamo di un giornalismo, spesso anche di persone eroiche, ma spesso anche e soprattutto embedded. dico queste cose per valorizzare l'iniziativa che c'è stata e mi pare di avere colto Stefania, Maurizzi, grazie ancora, nella commissione, nell'audizione a Strasburgo, un grande passo in avanti, un salto fondamentale nell'iniziativa per la libertà. Ecco, questo volevo dire. grazie Vincenzo. Io, se siete d'accordo, girerei subito, siccome Vincenzo ha fatto anche delle proposte concretissime, quindi ha anticipato la mia domanda, perché io volevo chiedere a Stefania. Stefania, ora cosa possiamo fare? Qualcuno dice, è finito il movimento per la Strasse, tiriamo giù le saracinische. Vincenzo faceva due proposte concretissime, vorrei sentire il tuo punto di vista anche per invitare poi tutti i presidi ad accogliere queste proposte, anzi ve lo dico in anticipo, a chiedere un pezzo a Vincenzo, a Stefania alla fine di questa riunione, per segnalare le proposte, i passi ancora percorribili. Qui ci stanno sentendo tutti i presidi di articolo 21 e poi ci sentiranno tantissime persone collegate nelle registrazioni. Quindi Stefania, Maurizzi, vorrei capire se tu condividi, immagino di sì, le proposte di Vincenzo. Io le condivido assolutamente e è vero che è stata già la campagna di Julian Assange si è già attivata per chiedere la grazia al presidente Biden e sappiamo che sarà molto improbabile ma è importante chiederla perché non può passare il principio che un giornalista che rivela crimini di guerra viene incriminato per la prima volta nella storia con la legge del 1917 per le spie e viene equiparato a una spia sostanzialmente e quindi è assolutamente fondamentale respingere questa questa offensiva perché noi fino al 1971 quando il New York Times e il Washington Post grazie a Daniel Ellsberg ha rivelato i Pentagon Papers noi questa libertà ce l'avevamo ora arriva questa novità devastante che se tu riveli questi documenti segreti del governo americano finisci la tua vita bene che vada in galera come rischiava Julian Assange e lo rischi a tutti a tutte le latitudini se sei un giornalista italiano se sei un giornalista americano se sei un giornalista australiano cioè questa battaglia noi la dobbiamo fare per Julian Assange per il giornalismo ma anche per noi perché il giorno che noi avremo un documento su Aviano un giorno in cui avremo un documento su Sigonella noi rischiamo esattamente la stessa incriminazione e non importa se siamo cittadini italiani o cittadini americani gli americani hanno gli Stati Uniti hanno chiarito che mentre applicano il loro espionaggio a qualunque cittadino del mondo non applicheranno il loro First Amendment che garantisce la libertà di stampa di espressione ai cittadini americani agli stranieri cioè loro pretendono di applicare la loro legge sullo spionaggio a tutto il mondo a tutti i cittadini del mondo ma il loro diritto costituzionale il First Amendment che ricordiamolo ha permesso la pubblicazione dei Pentagon Papers dicono no quello vale solo per i nostri cittadini quindi che facciamo che quando si tratta di incriminare usano le loro leggi ma quando si tratta di proteggere la libertà di stampa non vogliono dare la protezione costituzionale a chi non è cittadino americano quindi assolutamente dobbiamo raccogliere l'invito di Vincenzo Vita proporre lottare per il Pulitzer voglio ricordare che senza questa campagna e c'è collegata e c'è collegata Marianella Diaz prea San Gitalia molti attivisti senza questo grosso scossone dell'opinione pubblica lui sarebbe finito in galera è lo scossone dell'opinione pubblica dei movimenti che ha reso impossibile per il governo americano e inglese far finta di nulla e continuare come se nulla fosse ormai la mobilitazione era troppo grande la pressione era costante quindi ci deve essere pressione costante non solo per lui non solo per il giornalismo ma anche per noi perché i prossimi siamo noi i prossimi siamo noi il prossimo giornalista che ha in mano un documento su Aviano sul Candarbi rischierà la stessa situazione ancora peggio Stefania tanto grazie perché noi non ci stanchiamo di sottolineare che mentre l'Europa ha chiesto all'Italia non solo le nuove normerai ma ha chiesto di disattivare le norme bavaglio nelle stesse ore si stanno per approvare nuove norme bavaglio addirittura è stato perquisito un collega a Firenze guardate un piccolo caso è passato in sordina ma per andare a cercare le fonti attenzione ha ragione Stefania da Assange scendete per l'Iran e l'Italia con l'Ungheria sono due paesi chiave per la sperimentazione ormai l'aggiramento delle fonti e del segreto è diventato quotidiano lo dico perché le cose che ha detto Stefania vorrei che venissero registrate perché ci riguarda e ho capito che questo non è chiarissimo a tutti pensano che ci sia Assange una cosa lontana e poi non ci riguarda nella vita quotidiana è un errore l'assalto alla Corte Costituzionale che è in corso modificherà modificherà l'intervento della Corte guardate anche su questi temi anche sulla libertà sul pensiero critico ci vuole un'attenzione da parte di tutti estrema so che tra breve arriverà Nico Piro che tanto fa parte di questa grande famiglia del pensiero critico conosco il suo rapporto anche con Stefania fanno parte della stessa famiglia che difende il pensiero critico sempre e comunque e dovunque approfitterei se ve lo consentite siccome tra quelli che hanno sempre aderito alle nostre campagne fatemi ricordare Carlo Bartoli l'Ordine dei giornalisti la Federazione della Stampa tante associazioni sin dal primo giorno ma vedo collegato Roberto Natale che allora si occupava di articolo 21 adesso è consigliere di amministrazione RAI non entro nelle questioni RAI però volevo dire a Roberto volevo che Roberto su questo tema proprio di Assange del pensiero critico portasse il suo saluto ricordandogli che anche in queste ore in tutte le trasmissioni anche del servizio pubblico la voce della pace è sparita non ci sono mai gli accademici della pace gli studiosi dei temi della pace studiosi seri argomentati le loro voci sono totalmente azzerate la descrizione del mondo della pace è affidato al bacchiettismo non sapete questo termine ma non devono parlare reti e movimenti che si sono occupati di questi temi per decenni ho visto che è arrivato Nico Piro lo ringrazio chiedo a Roberto se vuole fare anche lui un breve saluto a Stefania e a Nico ringraziandolo perché aveva detto alla prima occasione per salutare tutta la comunità nella quale sono cresciuto sin dai tempi di Fiesone Roberto Natale poi torniamo a Nico che potrà interlocuire anche con Stefania prego Roberto ciao Beppe buongiorno a tutti e a tutte comincio dai saluti dai ringraziamenti anch'io comincio da quelli a Fabiana Pacella perché mi sono un po' commosso anch'io sabato non ho fatto in tempo a risponderle nelle mail per le ragioni straordinariamente belle che hanno portato a quel riconoscimento così importante per lei e per tutta la comunità dell'articolo 21 con Stefania Maurizzi ci siamo incrociati grazie al suo indomito attivismo in varie zone d'Italia nella campagna anche in qualche iniziativa di quelle in cui si saliva sulla sulla sedia vuota sul il monumento che fossimo ad Assisi dove eravamo a Gubbio Stefania ad Assisi ad Assisi ad Assisi per tenervi alla battaglia per Assange per quanto riguarda la RAI vi ringrazio ancora una volta l'ho fatto con alcuni di voi a tu per tu per i messaggi arrivati dal momento della mia elezione a consigliere d'amministrazione non mi sfugge per usare un eufemismo la difficoltà del momento e le molte incognite che gravano sull'incarico così come so bene quanto siano sono state articolate le posizioni che hanno preceduto questa elezione ho già avuto modo di dire in questa sede che comunque è assai importante il modo in cui articolo 21 ha insistito nel sottolineare che l'attuale normativa è lontanissima da quello che ci chiede il media freedom act sappiamo che il 23 ci sarà anche un pronunciamento del tar in questo contesto ho già avuto modo forse qualcun di voi ha potuto leggerlo di un primo intervento pubblico assieme a quello col quale ho dato voto contrario all'individuazione di Gian Paolo Rossi come amministratore delegato e di Simona Agnes come presidente indicato dal consiglio di amministrazione RAI insieme a questo è capitato di intervenire risposta Aldo Grasso su quello che debba essere debbano essere le priorità in questa prima fase media freedom act al quale orientare la nuova legge contratto di servizio in vigore da qualche mese è completamente dimenticato stati generali del servizio pubblico sui quali chiedo l'attenzione anche della comunità d'articolo 21 dovrebbero essere ufficializzati a breve i due giorni 6 e 7 novembre in cui la presidente della commissione parlamentare di vigilanza convocherà questi stati generali che spero per parte mia voglio che non siano solo l'occasione in cui discutere della legge sulla nuova governance del servizio pubblico ma anche un momento per ragionare su cosa chiediamo al servizio pubblico oggi e dunque i temi che Beppe pone che è capitata ancora due settimane fa ad Assisi nella giornata dedicata alla marcia per la pace di sollevare insieme sono tra quelli che diranno della qualità del servizio pubblico di questi tempi è vero è vero che c'è stato l'oscuramento totale della questione Assange è vero purtroppo che sui temi della pace ci si limita a una par condicio tra strateghi di opposti orientamenti e esperti militaristi e le voci del movimento della pace totalmente mancano dovrà essere lo dico a me stesso con voi uno dei temi sui quali chiedere che il servizio pubblico se vuole celebrare degnamente i 70 anni della tv ai 100 della radio un servizio pubblico oggi voglia essere all'altezza delle aspettative di tanta parte dell'opinione pubblica deve cambiare rotta su questo giudicherete vi ringrazio preventivamente del vostro stimolo so che sarà per me importante anzi fondamentale grazie a tutti grazie a Roberto ti ricordo solo la grande ma non c'è bisogno la grande campagna no panel no peace che è stata rilanciata anche nella grande assemblea di Assisi e Roberto è utilissimo perché la sua osservazione vedete una volta tanto sono le nove spaccate avevo preso l'impegno a chiudere tutti assieme alle nove e mezza la parte con Nico Piro vorrei che Stefania rimanesse Roberto che tutti e tutti ascoltassero ora la testimonianza di Nico intanto un abbraccio Nico buongiorno maestate così puntuali grazie di essere diciamo con voi alcune cose partendo all'intervento di Roberto e da quello di Stefania 2003 la più grande manifestazione della storia contro la guerra sul palco di piazza San Giovanni c'era un manipolo anche se è un termine che oggi come dire suona male c'era un gruppetto di giornalisti Rai Roberto Natale Paolo Giuntella due colleghi di cui non ricordo il nome oggi e c'ero anch'io e avevamo uno striscione che diceva giornalisti Rai contro il silenzio perché il governo Berlusconi non voleva che la Rai seguisse quella manifestazione e ci riuscì oggi paradossalmente siamo in una situazione ben diversa nel senso che il silenzio di tutto ciò che è contro la guerra è diventato dominante non solo gli esperti quelli che da anni da decenni con enorme serietà cioè prima ancora che nascesse Putin o Hamas per capirci si occupano di pace ma anche di tutti quei giornalisti non dimentichiamocelo che provano di fronte all'informazione preconfezionata a esprimere quantomeno dei dubbi anche solo rispetto ai titoli che vedo che nelle ultime ore stanno per fortuna già cominciando a cambiare Raid uccide 20 palestinesi e ti chiedi chi sia Raid perché in realtà quello è Raid israeliano e cose che abbiamo assistito e continuiamo ad assistere a lungo io personalmente non vi voglio tediare se qualcuno c'ha voglia e tempo ho fatto sulle parole della guerra e cioè su come le parole diventano marketing della guerra nelle mani dei giornalisti ho fatto due interventi uno a Trieste e un altro al Festival di Emergency a Reggio Emilia sono sul mio sito sono su YouTube e nel caso qualcuno se li può andare a vedere Roberto Natale parlava degli stati generali dell'informazione e del servizio pubblico io credo che sia un appuntamento che in questi mesi è stato sbeffeggiato dalla stampa perché la stampa lo ha descritto come una specie di appuntamento che in realtà serviva solo a coprire delle manovre lottizzatorie invece secondo me è un appuntamento importante al quale è importante che non so in quale forma si svolgerà ma articolo 21 sicuramente Roberto Natale e gli altri dovranno e potranno dare un contributo per far capire anche da dentro quello che non funziona nel servizio pubblico Stefania Stefania giustamente ci ha ricordato l'importanza come dire della vicenda Assange che va oltre Assange però fatemi dire una cosa perché se no poi ci sembra che ragioniamo nel vuoto come ci ha giustamente ricordato il direttore di Wikileaks a Otranto nell'accordo chiamiamolo diciamo transattivo anche se non è un non è un termine esatto come non termine esatto patteggiamento insomma nell'accordo giudiziario tra Stati Uniti d'America contro Julian Assange non c'è una una riga una sola che dica che Assange è stato un pirata informatico eppure eppure giornalisti e giornaloni italiani continuano a definire Assange pirata informatico noi queste cose ce le dobbiamo dire perché non deve nemmeno passare l'idea che la categoria dei giornalisti sia al di sopra del bene e del male purtroppo purtroppo esistono versanti anche nel nostro mondo e alcuni versanti onestamente fanno davvero paura ogni giorno di più nello strumentalizzare notizie e nel raccontare le cose come dire a rovescio detto questo io diciamo ritorno nel 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 scusatemi mi sono allargato perché il dibattito mi ha appassionato per come l'ho sentito mi senti Nico mi senti Nico sì volevo solo dire e hai talmente ragione lo segnalo a tutti i presenti che noi medesimi come associazione siamo stati oggetti di attacchi come ben sai da te segnalati infami e infamanti proprio per avere sostenuto queste posizioni su Assange anzi una parte della categoria è stata fammelo dire sottolineare assolutamente complice così come complice nelle aggressioni nei confronti del pensiero critico come tu hai scritto come complice nei confronti di qualunque cronista che avanzi un dubbio come è accaduto a te e a Stefania Maurizzi quindi voglio dirlo con chiarezza no non siamo tutti uguali non tutti hanno condiviso anzi molti non hanno condiviso queste posizioni mi colpisce molto che ci siano raccontate le storie per esempio degli ostaggi ci mancherebbe altro spero che tutti tornino a casa in poche ore ma non sappiamo nulla delle storie dei bambini palestinesi neanche i nomi sono come i migranti del Mediterraneo non hanno diritto al nome sono morti senza nome non hanno diritto quindi scusami se ti ho interrotto perché volevo farti una domanda perché a me ha colpito molto e tu sei un signore non hai parlato del tuo libro ma a me ha colpito molto invece questo testo che si chiama Il Dono Solferino Editori io vorrei che tu spiegassi perché non è un libro come gli altri questo è un libro in cui tu parli ti esponi parli anche della fragilità di un inviato con le sue fragilità e l'hai voluto chiamare Il Dono a me sembra bellissimo vorrei che tu spiegassi però che cos'è Il Dono in questo caso no diciamo che sia un libro un po' diverso da quelli che ho scritto finora ma anche se poi in realtà non è nemmeno vero nel senso che io finora ho scritto libri che si occupavano di Afghanistan di pace di guerra di strumenti per il giornalismo e questo è un libro invece personale con tutti i rischi di scrivere nell'epoca del selfie come questa un libro che parla di se stessi perché c'è sempre il rischio dell'autoreferenzialità in realtà non è così o almeno questa questa è insomma l'impressione che mi sono fatto altrimenti non l'avrei dato alle stampe perché è un libro che parla non solo della mia storia ma parla anche di tutte le persone che ho incrociato lungo la mia storia in sta grande maggioranza persone straordinarie in piccola minoranza persone miserabili ma come del resto il mondo è fatto di persone straordinarie persone più tristi diciamo che la cosa che mi ha spinto a farlo era la vecchia idea se volete un po' retro ma secondo me sempre attuale che il personale politico e che quindi una storia personale può essere utile per portare un grande tema rimosso dalla società italiana nella conversazione pubblica nella conversazione politica mediatica il tema è la disabilità io da sempre faccio i conti con una tra alti e bassi con una disabilità motoria mi accompagna per tutta la vita il titolo del libro uno strano dono è proprio legata a come la disabilità possa essere un grosso problema ma anche qualcosa che ti spinge a vivere la vita e a guardare la vita in un modo in un modo diverso e anche probabilmente anzi non probabilmente sicuramente a guardare gli altri e la condizione degli altri in un modo diverso quindi alla fine credo che questo libro sia in linea con tutto lo sforzo che io non sempre riuscendoci per carità però tentandoci ho provato a fare da giornalista cioè di dare voce a chi non ha voce prima erano i migranti le vittime delle crisi le vittime delle guerre oggi e appunto sono i disabili con una con una particolarità però che è la stessa idea di disabili che alla società italiana sfugge perché per noi il disabile è quello che sta in carrozzina senza renderci conto invece che per esempio l'età l'aumento dell'età media in questo paese sta moltiplicando le disabilità soprattutto motorie e sta rendendo questo paese sempre più inadeguato dal punto di vista delle barriere architettoniche dal punto di vista del tema dell'assistenza ma soprattutto dell'integrazione noi ci vantiamo di avere la legge migliore del mondo non è vero ormai quella legge è un rottame è un reperto archeologico non c'è non manca uno statuto di diritti dei disabili uno statuto della disabilità mancano le condizioni oggettive per fare in modo che l'integrazione sia tale e questo tema purtroppo è taciuto o è assolutamente assolutamente ignorato tutto questo in un quadro che però riguarda anche i media e non mi riferisco solo al giornalismo io dico sempre che avremo parità quando vedremo un non vedente condurre un telegiornale magari del servizio pubblico anche con il paradosso di sentirlo dire e ora le immagini esclusive immagini esclusive che non ha visto ma che gli sono state perché non può vederle ma che gli sono state gli sono state descritte il problema vero oggi è i media come rappresentano la società la rappresentano in una maniera totalmente distorta non è possibile che nei quiz a premi nei giochi nei concorsi nei talent show nei reality show tutti cammino bene tutti vedono bene tutti parlino bene quando la realtà non è questa non è questa basta guardarsi intorno basta guardarsi nelle strade la realtà è fatta anche di disabili i disabili sono una quota di questa società per giunta sono disabili dalla nascita disabili per trauma disabili per malattia disabili temporanei disabili per età è un tema fondamentale che viene totalmente rimosso dal servizio pubblico come dai media in generale poi il servizio pubblico fa sicuramente gli sforzi importanti per esempio le paralimpiadi ma già il semplice fatto di definire le paralimpiadi atleti che sfidano la sorte come noi abbiamo fatto io lo trovo fortemente limitante ma perché Tamberi poche ore prima pochi giorni prima del salto della sua vita che si prende una calcolosi che ha i calcoli renali non ha dovuto fare i conti con la sorte allora io credo che la vera sfida che i disabili e gli atleti paralimpici hanno non è con la sorte ma è con un mondo di normodotati che è profondamente razzista e discriminatorio quasi sempre senza rendersene conto e quindi senza voler colpevolizzare nessuno c'è una grande battaglia da fare numero uno per fare in modo che la rappresentazione della realtà quella fatta dai media cambi diventi più aderente alla realtà per colore della pelle per credo religioso ma anche per disabilità per questioni di genere ma anche per disabilità cioè la disabilità manca proprio per esempio da tutto il dibattito sulla diversità e c'è anche da creare condizioni oggettive da avviare finalmente una riforma dei sistemi di assistenza dei sistemi di tutto l'impianto legale per cercare il legislativo per cercare di arrivare all'integrazione quando oggi invece in realtà il disabile è disintegrato non è integrato viene respinto dalla dalla società in qualche modo siamo rimasti ai grandi avanzamenti delle delle quote delle categorie protette ne assumiamo cinque abbiamo risolto il problema sì ma dopo dopo che li hai assunti mi fai capire se ti poni il problema della piena integrazione sul posto di lavoro o è solo un modo per rispondere a una legge è possibile che in Italia per esempio sia più facile e ne sono contento trovare un bar con un cornetto vegano cioè che viene incontro a una a chi ha fatto delle scelte giustamente di tipo di tipo etico sulla propria alimentazione che trovare ma è molto più difficile trovare un bar che non abbia gli scalini per entrarci dentro queste sono le cose in questa società che dobbiamo affrontare io e l'avevo scritto all'epoca anche sull'articolo 21 ci ho dedicato un intero capitolo nel mio libro ma è possibile che c'è un talent show dove ci si occupa di cucina la cucina anche a anche come dire a livello tre stelle è un'attività che è sostanzialmente statica eppure c'è un talent show dove la parte principale la parte iniziale è dedicata alla corsa a correre in dispensa ma che cosa serve correre in dispensa se non aggiungere un po' di adrenalina al talent show ma quando in realtà è semplicemente una barriera all'ingresso una forma di discriminazione inconsapevole ma pur sempre discriminazione cioè tutti questi temi tutte queste riflessioni sono assolutamente assenti dalla società italiana però poi in maniera consolatoria ogni quattro anni appoggiamo i normodotati appoggiano le dita la mano e il naso se lo schiacciano su quel magnifico vetro dell'acquario che sono le paraolimpiadi all'interno vedono questi pesciolini colorati dai colori strani che fanno strane evoluzioni sono contenti si sentono a posto con la coscienza ma non si sono bagnati perché stavano dall'altra parte dell'acquario il problema è che dobbiamo bagnarci il problema è che è necessaria una vera integrazione dei disabili noi come giornalisti come operatori dei media come persone che lavorano in qualche modo anche in contiguità diciamo con l'entertainment abbiamo il dovere di rappresentarla questa società ripeto quando è stata l'ultima volta che abbiamo visto un concorrente ipovedente un concorrente sordo un concorrente disabile motorio in un talent show in un reality show cioè in un gioco a premi in un quiz cioè in quelle cose che rappresentano l'immagine pubblica del nostro paese dobbiamo fare secondo me dei grandi sforzi il tentativo del mio libro è quello di aprire ripeto dare voce a chi non ha voce perché poi alla fine i disabili in Italia la comunità dei disabili in Italia non ha voce e se ha voce ce l'ha solo e se solo e comunque in termini in qualche modo tecnici non c'è più il ticket non c'è più l'esenzione ridateci l'esenzione sono tutti sempre temi da sportello in realtà invece secondo me il tema è sempre più culturale è sempre più politico in senso ampio e va appunto affrontato tanto grazie Nico fatemi ricordare a chi ci ascolterà tante e tante delle registrazioni ti ho ascoltato adesso Nico Piro che ha parlato anche del suo libro Il Dono prima Stefania Maurizzi e io vi ricordo tra l'altro che sia Stefania su Assange e non solo su Assange sia Nico sono a disposizione di mettere possibilità di tempo anche per presentazioni di questi testi in giro nei vari presidi io li segnalo perché sono parte integrante di una campagna per il pensiero critico ricordo anche il potere segreto di Stefania Maurizzi su Assange ho delle domande se siete d'accordo io farei fare le domande brevemente in modo che rispettando i tempi poi consentiamo a Nico e a Stefania di concludere ho visto la prima domanda di Antonella Napoli e Bob Seggi brevi le domande in modo che loro possono concludere prego Antonella sì intanto ringrazio e saluto entrambi Stefania è stata straordinaria nel suo impegno per Assange però ci tengo a fare una domanda soprattutto a Nico perché con Nico ci conosciamo da 30 anni siamo partiti praticamente quasi in contemporanea insieme da Salerno abbiamo fatto un percorso parallelo ma distante ma siamo arrivati più o meno ai nostri punti stabiliti cioè quello che volevamo fare e per me il Nico però è sempre stato normale pur conoscendo bene la sua disabilità è sempre stato normale quindi la mia domanda è da giornalista a un giornalista soprattutto giornalista di servizio pubblico allora noi siamo stati condizionati molti giornalisti sono stati condizionati nelle loro testate sulla narrazione di quello che è avvenuto prima il 7 ottobre e poi quello che è avvenuto con la reazione israeliana volevo capire appunto volevo una sua riflessione su questo c'è chi ha detto no io personalmente ho lasciato Repubblica per questo però volevo una sua analisi su quello che è accaduto in Rai su quello che è accaduto in altre testate importanti da giornalista appunto del servizio pubblico grazie Antonella anzi se puoi penso le riflessioni che facevi adesso anche sul 7 ottobre trasferisci sul sito perché in questo momento sul sito non vedo riferimento al 7 ottobre grazie anche a te al direttore Corradino a Graziella io prima di tornare a Nico a Stefania darei la parola a chiesto di fare una domanda Bob Secci che ringrazio per lo straordinario impegno che sta mettendo anche in queste ore anche se ormai in pensione per le elezioni dell'Usi Grai e faccio questa premessa per dire che le riflessioni che qui ci ha portato anche Nico e anche i temi della costituzione antifascista del pensiero critico della disabilità io mi auguro che tornino tornino a dominare il dibattito anche nelle istituzioni della professione perché vedo che lentamente questi temi di interesse generale sono un po' accantonati o addirittura definiti roba che riguarda la politica frase aberrante prego Bob per la tua domanda beh io sono in pensione ma come molti di voi sanno faccio in realtà un altro lavoro e lo faccio in politica quindi lo faccio con grande entusiasmo con grande passione e la battaglia nell'Usi Grai e faccio soltanto una parentesi brevissima non è assolutamente conclusa cioè c'è un ritorno fortunatamente all'impegno di molti colleghi che capiscono che la stagione che stiamo attraversando rischia di portare davvero il sindacato dei giornalisti prestigioso con una costola che è sempre stata a destra ma che ha sempre individuato il percorso della difesa dei diritti e della Costituzione per riportarlo nuovamente su quella strada torno alla domanda che non è una domanda ma è un'affermazione è anche un dettaglio che forse a molti sfugge intanto grazie a lui per il coraggio che ha avuto nello scrivere questo libro che chiaramente per molti è una rivelazione io lo conosco da molti anni e ho sempre come dire rispettato e apprezzato il suo sforzo per apparire non disabile che ci mettesse impegno perché per il suo lavoro non è necessario ma c'è un altro collega Alberto Puoti che lavora a Ragnosi 24 che da molti anni è Rai che è completamente sordo e va in onda lo noterete se guardate il PC di Ragnosi 24 con un orecchio bionico questo lo fa incodrare di proposito e quindi è il primo caso in Europa di un giornalista sordo che lavora nel servizio pubblico e questo come dire è un elemento importante nel percorso per superare preconcetti e anche barriere all'interno del nostro mondo quello dell'informazione quindi grazie ancora a Nico e a tutte le cose che hai fatto in questi anni per noi grazie grazie della speranza che ci hai dato che molti colleghi sono tornati all'impegno costituzionale e speriamo che ciò sia sempre più visibile grazie a Bob che ha partecipato anche alla Perugia Assisi un tempo ricordo che i grandi bandiere l'ho detto Nico del sindacato dei giornalisti non mancavano mai a questi grandi appuntamenti come la marcia Perugia Assisi o ai grandi appuntamenti per la difesa della Costituzione e questo è un punto chiave chiave proprio che divide articolo 21 dagli altri proprio la centralità come hai detto bene della Costituzione antifascista pacifista e antirazzista e ho visto che c'era una comunicazione che è Patrizia Migliozzi che anima articolo 21 su Instagram cosa volevi dire Patrizia? Volevi fare un invito? Sì buongiorno a tutte e a tutti volevo appunto invitare nel nostro presidio sia Stefania Maurizzi che è Nico Piro ci farebbe tanto piacere avervi a Latina e se vogliamo organizzare una presentazione poi Stefania insomma ha veramente una fan base fortissima a Latina che la segue un po' ovunque quindi faremo contenti tantissime persone quindi Stefania tanto grazie siamo a disposizione grazie grazie a proposito del tema che poneva sia Stefania sia Nico il rischio ormai di una riduzione del diritto di cronaca e quindi del pensiero critico vorrei che Graziella ricordarsi tutti brevemente siamo alle nove e ventidue Graziella Di Mambro redazione di articolo ventuno c'è un appuntamento mi pare il sedici ottobre su questi temi ho sbaglio? Sì buongiorno a tutti buongiorno a tutti ricorda solo l'appuntamento Graziella che poi chiudiamo il sedici ottobre ci sarà il primo di due corsi organizzati da articolo ventuno con la collaborazione della fondazione Avvocati di Latina e ovviamente l'ordine giornalisti del Lazio anche se il corso è nostro sarà dedicato a Daphne Caruana Galizia perché è perché l'anniversario dell'assassinio e perché il corso è incentrato sulla cronaca giudiziaria possibile in Italia io aggiungerei quasi impossibile colgo l'occasione per invitare chi di voi potrà insomma a venire a questo corso è solo in presenza perché ci teniamo appunto a che sia anche una manifestazione per Daphne Caruana e poi ne faremo un altro il 18 quello più tecnico sul PNR Grazie a te e avevo visto una mano alzata ma non ho individuato il nome non voglio saltare nessuno perché poi ho Stefania e Nico darei le conclusioni a loro anche perché sono quasi allora Stefania Maurizzi io darei la parola a Stefania Stefania ci ha dato alcune proposte alcune riflessioni magari ti faccio io la domanda Stefania nella descrizione del conflitto in atto sia in Ucraina sia quello a Gaza a Gaza in Libano si conferma sempre più un rischio denunciato tante volte da Nico Piro che una parte dei giornalisti si è messo nel metto e che ormai come dire parteggia non descrive parteggia e non descrive mi pare un pericolo fortissimo anche per la democrazia lo chiedo a Stefania è assolutamente è un gravissimo pericolo è un gravissimo pericolo anche perché noi vediamo che poi tanti giornalisti si sentono sentono la pressione di rimanere nel letto del fiume anziché fare un'informazione indipendente perché nel letto stare nel letto del fiume e quindi aggregarsi a quello che è il pensiero dominante al pensiero del greggio paga io posso portare la mia testimonianza quando il mio lavoro sul caso Giulia Massaggio e Wikileaks sui documenti segreti mi ha fatto entrare in rotta di collisione per il giornale per cui per il gruppo editoriale per cui ho lavorato 14 anni l'Espresso e la Repubblica e alla fine ho dovuto scegliere se continuare il mio lavoro sul caso oppure continuare a stare nel giornale ho scelto le dimissioni ho pagato economicamente queste dimissioni il mio reddito è crollato da 40.000 euro lordi a 3.000 euro all'anno e lo dico lo dico perché per far capire quello che succede poi quando esci dal letto del fiume e quindi la pressione è fortissima su noi giornalisti quindi sta a noi resistere a questa fortissima pressione se vogliamo fare non i propagandisti che stanno in una posizione di comodo di vantaggio di 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 non essere in solitudine perché poi c'è anche una grande solitudine che ritrovi veramente da solo spesso sta a noi poi c'è le battaglie bisogna individuare quali sono le battaglie fondamentali nel caso Julian Assange e Wikileaks per esempio a lui hanno fatto una domanda a Strasburgo e gli hanno chiesto i parlamentari che cosa è urgente fare per esempio per evitare che si ripeta con un altro giornalista questo caso e ovviamente oltre alla riforma dell'espionaggio act e fare in modo che non venga più applicato ai giornalisti che rivelano informazioni nel pubblico interesse ma venga applicato solo alle spie lui ha citato un fatto lui ha detto bisogna fare attenzione alle leggi sulle sull'estradizione verso gli Stati Uniti perché dopo l'11 settembre gli Stati Uniti hanno imposto hanno negoziato con i vari paesi del mondo dei trattati di estradizione che fanno sì che e hanno estradato senza grandi problemi perché questo volevano è un terrorista via lo mandiamo negli Stati Uniti e lo tiriamo in prigione quindi è stato per esempio eliminato la possibilità di negare l'estradizione per un reato politico che prima era previsto prima del dei trattati del nuovi sull'estradizione e lui diceva io mi sono salvato dall'estradizione perché la legge inglese prevede che un cittadino non può essere discriminato se viene estradato negli Stati Uniti non può essere discriminato perché non è cittadino americano e io mi sono salvato dall'estradizione per questo però non tutte le nazioni europee hanno questa clausola che permette di non estradare se rischi la discriminazione quindi lui diceva bisogna fare attenzione e riformare le leggi sull'estradizione questo questo Beppe ci interessa molto perché ripeto moltissimo ci succederà di nuovo e poi chiudo velocemente succederà di nuovo che un altro giornalista verrà incriminato perché avrà documenti su Aviano avrà documenti sulla base di Sigonella e tu dirai ma chi è che estrada un cittadino italiano negli Stati Uniti verissimo magari lo Stato italiano non concede l'estradizione però noi giornalisti viaggiamo e il giorno in cui ci troviamo in un paese che può concedere la nostra estradizione siamo nei guai quindi su questo anche noi dobbiamo lavorare su cose concrete guarda lo segnalo anche alla nostra redazione ai nostri canali Instagram Facebook questa frase di Stefania che riassumerei così attenzione può toccare a ciascuno di noi quindi insisto può toccare a ciascuno di noi forse oggi nei pezzi che scriveremo anche di resoconto questo è uno dei punti essenziali Stefania avete ricevuto tu e Nico intanto numerosi inviti ho visto da Latina da Luca da Orvieto ma poi vi contatteranno direttamente saluto Stefania ma tanto resta con noi fino alla fine Fabiana sì speravo che tu restassi Pacella sino alla fine perché volevo farti intervenire Fabiana Pacella lo ricordo Puglia Fabiana ha ricevuto questo riconoscimento ciao a tutti ragazzi grazie a te Fabiana ho detto bene che è stato riconoscimento anche per le inchieste giornalistiche grazie grazie a voi grazie grazie di cuore io devo correre dai mostri dimmi dimmi ho detto bene che questo riconoscimento è stato anche per le battaglie per la libertà di informazione le battaglie che hanno portato allo scioglimento di alcuni comuni no no è stato assolutamente per quello viene solo ed esclusivamente da quello sì allora faremo io penso che sia opportuno adesso andiamo da Nico ma volevo che si sentisse la tua voce perché è stato un motivo di orgoglio per tutta la comunità dobbiamo fare un'iniziativa prepariamola a Lecce proprio a Leccio dove tu riterrai proprio su questi temi l'importanza come la libertà di informazione può affiancarsi alle battaglie per la legalità quindi un grazie Nico Piro se vuoi rispondere alle tante domande che hai ricevuto sì no rapidissimamente due cose prima di tutto parto da Stefania Maurizzi che ha il grande merito di aver tenuto accesa la fiaccola nella notte sul tema Assange però il problema vero è anche il problema che si è creato negli ultimi anni intorno al Casa Assange intorno alla guerra intorno alla pace e anche in qualche modo chiamiamolo col suo nome ambientale cioè se le poche persone che si sono apertamente esposte su questi temi sono state coperte di insulti attacchi beh che ne sa qualcosa sono state costrette ad andare alla procura della Repubblica a fare denunce sono state costrette a rivolgersi devo dire in maniera vana e qui il presidente Bartoli dovrebbe finalmente avviare una riflessione su che cosa sono le commissioni di disciplina dell'ordine e quali sono i loro criteri di valutazione perché non è possibile che vengano assolti colleghi che fanno liste di proscrizione di altri colleghi in pubblico ma lasciamo perdere in tutto questo quadro è evidente che poi la maggioranza che resta silenziosa di fronte a chi si espone ma viene letteralmente travolto da accuse critiche minacce diffamazione e diffamazione che la fa Franca eccetera eccetera evidentemente resta in silenzio quindi il tema secondo me è quello di ricostruire in generale un quadro di praticabilità del pensiero critico in questo paese ed è questo sicuramente un forte impegno politico ma è da questo da questo da cui si deve si deve partire sul tema della pace però fatemi citare una persona che non sono io è Raffaele Oriani Raffaele Oriani collaboratore del venerdì che dal venerdì si è dimesso e ha scritto un libro bellissimo che tutti quanti dovrebbero leggere e dovrebbero presentare che è scorta mediatica inchioda in quel libro le responsabilità della narrazione giornalistica sulla guerra sul fatto che l'informazione è diventata informazione di guerra cioè informazione da una parte con poi le grandi contraddizioni del bellicismo perché il pacifismo sta da una sola parte che è quello delle vittime a prescindere dal passaporto delle vittime dalla nazionalità dalla religione dall'etnia dal coe della pelle sta dalla parte delle vittime il bellicismo invece sta dalla parte delle vittime quando sono le vittime che fa il nemico e sono vittime diciamo dell'alleato quando invece il nemico fa vittime il bellicismo giustifica il nemico e voglio dire gli esempi di Ucraina e Medio Oriente Ucraina Israele e Gaza mi sembra che siano da questo punto di vista non lasciano alcun tipo di margine di ulteriore riflessione dicano sostanzialmente tutto chiudo dicendo io ringrazio i colleghi quando mi dicono sostanzialmente dico però tu sei sempre stato ai nostri occhi una persona senza problemi infatti questo è stato il mio sforzo quello di integrarmi e integrarmi da solo in qualche modo e infatti parlo del tema della mia disabilità ma sempre nell'ottica del personale politico dopo 35 anni di carriera che ho festeggiato a settembre 2024 cioè proprio in coincidenza con l'uscita del libro quando ormai non avevo più come dire non sarebbe non sarebbe più stato un tema anche in qualche modo strumentale da sollevare e quindi mi sentivo ancora più sereno nel sollevarlo però il problema è che non bastano le condizioni soggettive cioè non basta l'approccio di chi ha una disabilità al mondo dei normodotati ci vogliono bisogna creare delle condizioni oggettive e queste condizioni oggettive di supporto di sostegno di integrazione e non di disintegrazione le devono creare il legislatore la mano pubblica e le aziende comprese la RAI comprese tutte le grandi aziende italiane per poi creare a cascata un fenomeno positivo una piena positiva che riesca ad arrivare anche nelle piccole e medie imprese su tutti i posti i posti di lavoro grazie per questa occasione Beppe grazie a tutti voi no no amico adesso a parte le battute grazie a te davvero grazie a te grazie a Stefania secondo me quella di stamattina è davvero per usare un'espressione antica una mattinata di riflessione con pensieri lunghi non con battute non con spot ed è quello che cerchiamo di fare articolo 21 ringrazio e rafforzo le cose dette se posso se possibile da Stefania e adesso da Nico Piro perché se io chiudo gli occhi a proposito di pensiero critico senza parlare di nostre amiche o amici ma è mai possibile che io in questi giorni non veda che so una scrittrice di chiarissima origine ebraica come Anna Foa che ha scritto un bellissimo libro sul conflitto non ho mai visto Raffaele Oriadi di Repubblica come appena dell'ex Repubblica se n'è andato come ha detto Nico ma non vedo più Amnesty non vedo neanche più Amnesty intervenire da quando Amnesty ha fatto dei dossier molto argomentati non vedo un grande storico francese Iliam Papi che ha scritto un libro diffusissimo ma possibile in Italia in queste ore lo segnalo anche a Natale è in Italia ci ha detto delle cose spaventose il commissario ONU in Palestina Andrea De Domenico dice ho parlato di più sulle reti americane che sulle reti italiane per non parlare di Francesca Albanese ma potrei parlare di Vignarca della Rete della Pace o del professor Marco Mascia o Lotti di numerosi sacerdoti che non hanno neanche diritto di aprire bocca avendo chiesto il Papa come sapete cessato il fuoco quindi quello che è stato detto guardate fortissimo perché la discussione sul pensiero critico non riguarda un gruppo di amiche e amici a ragione Nico riguarda anche luoghi insospettabili non appena pronunciano parole critiche questo è preoccupante non è come in altri anni non è la divisione destra sinistra è la divisione a seconda delle parole che pronunci e non pronunci questo è l'attacco quello che Nico chiama il pensiero unico bellicista guardate e visto che è collegata con noi Elisa signori Rocchelli che Nico ben conosce ben sa e anche Stefania ma fatemi dire ma mi pare possibile che tra le ragioni degli attacchi ad articolo 21 c'è anche la richiesta di verità e giustizia per Rocchelli ma non è possibile qui non c'entra niente Putin qui non si può nominare la parola Rocchelli e questo riguarda anche alcune nostre colleghe e colleghi diciamo ma qui mi fermo qui mi fermo scusa Meppe posso dire una cosa volevo salutare Nico e ricordare a tutti che solo in aprile Nico ha scritto un altro bellissimo libro pacifista intitolato se vuoi la pace conosci la guerra che spero di presentare qui a Pavia che potrebbe essere intitolato anche la guerra spiegata ai ragazzini è un dialogo di Nico con i suoi figli estremamente efficace proprio nel senso di una pedagogia antimilitarista e pacifista ricco di esempi con uno stile comunicativo assolutamente originale efficacissimo e ancora una volta volevo fargli complimenti grazie la voce che avete sentito la professoressa Elisa signori grazie Elisa Elisa signori Rocchelli e anzi Elisa posso dirti una cosa puoi dirci mi hai detto che c'era un'iniziativa a Pavia promossa da te dal presidio di articolo 21 della Lombardia o me lo sono inventato io cosa possibilissima non so se dici il corso che è iniziato il 27 di settembre dedicato agli anni 70 il titolo è non solo piombo quindi l'Italia degli anni 70 è rivolto soprattutto ai docenti della scuola ma aperto a tutti articolo 21 l'ha sponsorizzato abbiamo 120 iscritti tra cui molti docenti ma anche molti studenti universitari e liceali e moltissimi cittadini che non hanno un interesse professionale diretto ma che vogliono tornare sulle problematiche di questo controverso periodo della nostra storia grazie magari spegnete i microfoni magari quando avrai tempo mandaci una riflessione non so se ci siano altre domande è ancora collegata Elisa Marincola sì sì vi ho ascoltato scusate se sono fuori in giro quindi non potevo collegarmi in video però ho seguito tutto e oltre che ringrazio Stefania e Nico in modo particolare ma tutti e tutti quelli che sono intervenuti che hanno dato un proprio apporto perché è stato molto importante intanto come ho scritto ringrazio Stefania e Vincenzo per ricordarci che non dobbiamo abbassare la guardia su Assange perché non è una questione chiusa non solo per Julian Assange ma per tutta la democrazia oltre che la diciamo la categoria di chi fa informazione e ringrazio Nico perché oltre che con il suo libro aver dato anche una testimonianza indiretta di che cosa significa una società veramente accogliente integrata e che dà spazio alla testimonianza personale e a di come le cose debbano cambiare proprio nella vita concreta perché si possa anche raccontare al meglio questa realtà cioè da parte anche soprattutto la categoria dei giornalisti e dico che queste però queste cose non possono restare tra noi oltre che la pubblicazione del nostro video della registrazione sui nostri social per chi non ha potuto collegarsi cerchiamo anche e chiederei sia a Stefania a Nico a Vincenzo Elisa Signori che adesso ci ha anche ricordato il corso che stanno realizzando sugli anni settanta anche dei brevi post perché possiamo anche rilanciare i libri di Stefania e Nico l'abbiamo già lanciati la testimonianza di Vincenzo c'è sempre però non basta mai bisogna tornare dare aggiornamenti ricordare le cose perché non ti abbassi la guardia hai ricordato tu cosa sta accadendo intorno alla Corte Costituzionale bene quello è proprio un passaggio decisivo dobbiamo illuminare di più perché come ha ricordato Stefania è la mobilitazione di tutti noi che può comunque un po' incidere cerchiamo di farlo anche su queste che sono questioni sembrano più tecniche invece sono sostanziali per tutti grazie Elisa a questo proposito voglio ricordare trovate il posto sul sito che Vincenzo Vita ha partecipato formalmente alla riunione di tutte le associazioni di tutti i comitati referendari attorno alla CGL e alla cosiddetta via maestra e formalmente l'articolo 21 è entrato nel coordinamento del comitato referendario Vincenzo è intervenuto all'assemblea sottolineando proprio il grave grande rischio che segnala a tutti il tentativo di oscurare i quesiti e soprattutto di buttare la palla in tribuna puntando sulla delegittimazione sul cuoro puntando sul cuoro quindi deve partire un'azione in particolare rivolta a quel poco che resta delle autorità di garanzia delle comunicazioni al servizio pubblico e non solo perché siano costretti a promuovere dei calendari di confronto del merito perché tutto si giocherà attorno al cuoro un grazie a Elisa grazie a Stefania Maurizzi grazie a Nico Piro grazie a tutti i presidi spero di non aver elevato la parola a nessuno buona giornata e concludiamo quasi in orario alle ore 9.42 grazie grazie davvero